Cosiris, siete autorizzati ad atterrare alla Traco 11. Capitano Lasky, le ho inviato la mia posizione tre settimane fa. L'avevo avvisata. Ne parleremo in privato. Palmer. Cosa ha fatto? Fin dove si è spinto? Ben fatto, Osiris. Tu che cosa ne pensi? È dall'addestramento che non vedo Chief così sotto pressione. Sta bene, Freddy. Non dopo così tante missioni di fila. Sierra 1-1-7-2. La squadra blu ha individuato Argent Moon. Segni di attività ostile. Ma lei è ancora. Ricevuto 1-1-7. Eliminare i nemici su Argent Moon. Preparatevi e schieratevi. Affermativo infinitivo. Passo e chiudo. Tenga. Grazie, Charlie. Tutti pronti? Affermativo. Stai bene. Squadra blu. Andiamo. Yang Goi resistono. Puntate fuori bordo, Yang Goi. Andiamo. Stai bene. Breccia nello scampo, arginata. Riflessurizzazione aree completata. Cosa sappiamo di Argent-Pon? Stazione Oni. È inattiva da 19 mesi. Settimana scorsa i Kigiar l'hanno trovata e rivenduta al gruppo di Julem Dama. Eliminiamo i Covenant e rendiamo la stazione a Oni. La via più rapida per recuperarla è prendere il comando centrale. Eliminate i nemici fino a lì e disattivate i sistemi di gravità e di supporto vitale. Il centro dati della nave è qui avanti. Scarichiamo la pianta di Argent-Moon. Notevole. Pare stessero progettando un nuovo velivolo di classe stealth. Hanno perso anni di ricerche con questa stazione. Perché dobbiamo fare noi il download? Che noia! C'è un simito! Mi piace farlo. Contatto nemico! Con questo. Noia! Noni! Viope! Noia! Noni! Noia! Noni! Noni! Sì, non è vero, non è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il comando centrale è dritto dopo l'hanga. Hanno fatto tutto a pezzi. Credo smantellino la nave sperimentale per i componenti. Sciacalli, saccheggiano tutto. A quanto pare la guerra dei Covenant contro l'Arbiter non sta andando bene. Giù l'endama è molte cose, ma non un profeta. La via diretta per il cantiere passa per quel muro. Sfondiamolo. Contatto. Non riesco a superare! Sfondiamolo. 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 aria sgombra c'è un itera qui aria sgombra 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 No, no, no. Grazie a tutti. Chief, il dominio è aperto. Ora, tocca al Meridio. Cortana. John, la reclamazione sta per iniziare. Chief, che succede? Lei è su Meridian? Chi? Cortana. Non è possibile. Dicevi che era morta? L'ho vista morire. Pensiamo alla missione ora, ne parleremo più tardi. Luci. Fabric, riportaci sulla via per il comando centrale. Prendo la pianta. C'è un ascensore, ma l'accesso è quattro piani più sotto. Percorso. Vorrei avere... Aspetta a tonemica. Aspetta a tonemica. Qua grazie a tutti. Quest'area è sgombra. Chief, cosa ti ha detto Cortana? Troppo poco. Qualcosa su Meridian. Meridian è un luogo isolato. Se attiva, cosa sta facendo laggiù sulla frontiera? Cacciatori, stanno facendo il passo. Sulla linea di tiro, sì. Attenghi alla granata! Attenghi alla granata! Squadra blu, ho bisogno di una ma... Ho bisogno di aiuto. Ci sono qui. Sono di nuovo in piedi. Ho bisogno di scappare! E' un po' che gli altri lo seguano. Attaccate per la gloria di Endama! Granata in arrivo! Livello 3 raggiunto. Ancora uno per l'ascensore verso il comando centrale. Rete di combattimento Covenant attiva. Navi Covenant da l'Iperspazio. Siamo in inferiorità numerica, Chief. Mille contro un. Lasciargli Argen Moon non è contemplato. Nemmeno combattere corpo a corpo metà dei Covenant. Allora niente comando centrale. Il piano cambia in distruzione di risorse. Andiamoci, Argen Moon. Il reattore della nave è vicino. Facciamo come con la Perpetual Devotion. Sovraccarichiamo il reattore e via. La nave esplode e distrugge le altri. Il reattore è sotto il laboratorio. Ci spostiamo nei condotti dell'aria. Segnalo il pannello d'accesso. Accesso verde 5. Autorizzato. Le comunicazioni Covenant accitano spesso Julem Dam. I nuovi arrivati dicono si è morto. Qualcuno ha fatto fuori il leader dei Covenant. Che bravo. Piacciatore. Forti maletti. Sfruttate l'atterizzatura del laboratorio per restare... Poca volontà. Sfruttate questa posizione. Sfruttate il risveglianito. Sfruttate il risveglianito. Sfruttate. Squadra blu. Linda ha bisogno di aiuto. Squadra blu. Occupatevi del mio bersaglio. Prendi la mira. Cacciatore in movimento. È molto veloce. Il cacciatore è giù. Non possiamo lasciar continuare questo cacciatore. Cacciatori a terra. Il nucleo del reattore è qui sotto. Andiamo. Le piante indicano un passaggio per il reattore è qui. Sfruttate il reattore è acquistato. Il reattore è qui avanti. Facciamolo esplodere e scappiamo. Niente bottino per i Covenant. Ok, andiamo. Perché l'applantetto è un'organizzazione? Dama è morto! Riunitevi! Attaccate Sardelius! Attaccate il giacolo! Subito! Consideralo giacolo. I comandi sono al lato opposto della stanza. Eliminate le forze Covenant e raggiungete quei comandi. quelli è a terra. Andate ad aiutarla. Abbiamo perso Trevor. Unitevi! Unitevi! Facciamolo! Ci dovremo più. Ci sono forza. Fate cuore il Feneri. Togliete di mezzo quella sorrisa. Vai! No! 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 E non ancora nemici, eliminateli e iniziamo la procedura di sovraccarico. E non ci sono i nostri spettatori, non ci sono i nostri spettatori, non ci sono i nostri spettatori. E non ci sono i nostri spettatori, non ci sono i nostri spettatori, non ci sono i nostri spettatori. E non ci sono i nostri spettatori, non ci sono i nostri spettatori. Camera di raffreddamento pronta. Allontanarsi. I sistemi di sicurezza mandano refrigerante nel reattore. Se il refrigerante funziona il nostro piano salta. Peccato per terear 102, ma vorrei vedere le facce dei Covenant quando esploderà come una supernova. Come si ferma? Le aree e comandi su entrambi i lati della camera di raffreddamento sono i nostri bersagli. Le aree e comandi, disattivare il sistema raffreddamento. Grazie. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Bisogna aprire le protezioni e i tubi di raffreddamento. Comandi manuali. Attenzione! Protezione di frenza di attivati. Comandi manuali attivati. Perfetto, i meccanismi di raffreddamento sono esposti. Squadra blu, eliminare del sangue. Prendete i basci, è più facile mirare i tubi dall'alto. L'armata è stata allertata, della nostra presenta. Riforzi in arrivo, mandano dei Phantom. Sistema ripresa. Funziona, continuate a sparare! Funziona, continuate a sparare! Raffettami sul passito. Temperatura nucleo in obbligo. Si consiglia evacuazione. Blue, evacuare. I basci non riesceranno a sfuggire all'esplosione del reattore. Mi chiedo Perikan. Il pilota automatico non funziona. L'armata deve averlo danneggiato. Fredrick, mostra l'hangar più vicino. Prendiamo il trawler. Ecco l'ingresso dell'hangar. Il trawler dopo la camera stagna. La temperatura del nucleo del reattore ha superato i 273 gradi K. Con lancio in niente. Ecco il pilota. Allangano il pieno di Covenant. Fateli fuori e pronti a lancio. E in fretta. Meglio non essere qui quando la stazione si sceglierà. Trovare subito i veicoli di evatazione. Mi ha otterito uno! Linda ha bisogno di aiuto. Segno il pannello di controllo. Questa è un po' di caricare! Tramata in arrivo! Andiamo! Ecco i comandi di lancio. Tramata in lancio veicolo iniziata. Celle di carburante a zero per cento. Spingete i covenanti lancio del brawler punto. Duro fuori! Trambo in spito! Il sistema è bloccato. Non è ancora finita. Non provo i piedi. Benvenuto reazione fallito. Evacuazione insediata consigliata. Sono a terra. Serve una mano. Si sta caricando? Cambio una mano. Sono a terra! Vieni, Spartan! Nuovo in piedi! Roger! Squadra blu, linda ha bisogno di aiuto! Altri cacciatori! Muovetevi! Squadra blu, fornisci assistenza! Taglia! oftina! Ti sono avanti Stiamo avanti! Non faccio saltare! Non faccio ufavorire! 任ico a riparo! Guarda! Cacciatore in rapido movimento Cacciatore in rapido movimento Cacciatore in rapido movimento Cacciatore in rapido movimento Quadra blu a bordo Libero Tempo Linda 89 secondi Sierra 117 Infinity Arged Moon è persa Riassegno la squadra blu Destinazione Meridian Potenziale contatto concordato Negativo 117 la missione è affidata a un'altra squadra Che diavolo Tornate subito sull'Infinity Negativo Infinity Non mi piace Chiunque siano raggiungiamo Meridian prima di loro Ghani no Non devi andare da solo, Chief Andremo tutti alla corte marziale, no? No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.